Complimenti Milena, raggiungere la qualificazione all'Europeo è un ulteriore passo in avanti per il movimento e per questo gruppo? Assolutamente sì, è di fondamentale importanza per continuare quel percorso di crescita che abbiamo iniziato con i mondiali, dal 2017 con l'arrivo ai mondiali e questo è un passaggio ulteriore. Sappiamo che il campionato europeo è un campionato di livello altissimo e quindi è un momento importante per le ragazze ma per tutto il movimento. Quanto si è emozionata a vedere il suo gruppo festeggiare così dopo una partita del genere? Loro danno sempre emozioni ma mi emozionano ogni volta che ci ritroviamo in raduno perché ci mettono tantissimo entusiasmo, voglia, passione e determinazione. E per un allenatore questi sono aspetti importanti. C'è sempre Firenze a scrivere una pagina importante per il suo gruppo. Firenze è una città importante per il calcio femminile, per la nazionale e ancora una volta qui abbiamo avuto un passo. Magari non ci due senza il tre, vedremo se succederà ancora.